Nel buio fitto delle filosofie umane A dodici anni non immaginavo che esistessero i maestri immateriali, eppure li cercavo. Dopo mi ficcai nel buio fitto delle filosofie umane e persi la traccia della vita. Verso i vent'anni la voglia dei maestri tornò con passi vacillanti e si fermò nel pedagogista e filosofo francese Hippolyte-Léon Denis Arrivail, che con lo pseudonimo di Allan Kardec fu il primo grande sistematore del fenomeno medianico. Passò anche il periodo dei telegiornali ansiogeni che scintillavano nei miei occhi come lame, ma niente, nessuna risposta, le speranze di capire la mia vita erano morte, tutto chiuso. Fino a che caddi nel cerchio Firenze 77, che premiò la fedeltà della mia prima giovinezza, e disperse a brani i corpi dei miei dubbi. Non più illusioni, seppure utilissime, non più perdite di tempo, seppure sacre, non più stragi di teorie filosofiche e politiche, ma il progetto spirituale dei maestri immateriali, che alla fine mi rese il loro schiavo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.